Anderson, sventa qui la minaccia, 5 minuti al fischio finale con un gol che divide le due squadre. Pallone tra i piedi di Maradona, ha spazio per andare. Maradona, ed è gol, rete! L'allenatore gli ha dato fiducia, lui l'ha ricambiata nel migliore dei modi. Facile rete, ma fu sempre una bella rete, grande conclusione ravvicinata. Un gol bellissimo, ha sorpreso il portiere con un tiro di rara precisione. Ha saputo calcolare il tempo giusto e ha trovato la rete.